Olivicoltori delle province di Rimini, Forlì e Cesena, buongiorno e ben ritrovati al primo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna del 5 gennaio 2023. Un saluto dall'Aipo OP e dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna. Fase fenologica. Gli olivi sono in riposo vegetativo con una temperatura media tra i 6 e gli 8 gradi centigradi, necessaria per accumulare una determinata quantità di freddo che soddisfi i requisiti termici del proprio fabbisogno. Difesa fitosanitaria. In questo momento vanno sospesi tutti i trattamenti fitosanitari. Approfittiamo di questo periodo invernale per approfondire aspetti di difesa fitosanitaria legati alle principali malattie dell'olivo. Iniziamo a parlare di una malattia funginea. Iniziamo dall'occhio di pavone. L'occhio di pavone è la principale malattia funginea dell'olivo. È causata dal fungo spilocea oleaginea e attacca soprattutto le foglie di olivo provocando la formazione di macchie tondeggianti di colore bruno scuro contornate da un alone giallastro. Da qui il nome occhio di pavone. Le foglie colpite cadono precocemente e questo ha un effetto negativo sulla produzione di olive. Il fungo dell'occhio di pavone si sviluppa con temperature tra i 10 e i 24 gradi centigradi con un optimum a 18-20 gradi centigradi e bagnature fogliari prolungate. Perciò sono possibili infezioni anche in inverni particolarmente miti e umidi come quello che sinora stiamo passando. Il periodo di incubazione del fungo prima che sulle foglie si formino i caratteristici occhi varia notevolmente. in primavera è di 2 o 3 mesi mentre in autunno sono necessari appena 15-20 giorni. Per difendere le piante d'olivo è bene eseguire corrette pratiche agronomiche e quando necessario ricorrere a trattamenti funginei. Per le pratiche agronomiche la potatura è fondamentale. In oliveti particolarmente infettati va alleggerito il carico di foglie all'interno della pianta affinché i trattamenti antifungini penetrino nella chioma e non si formino ristagni di umidità. Anche le concimazioni azotate se sono abbondanti possono influire nello sviluppo di infezioni perché determinano un aumento della produzione di foglie. Queste possono causare ombreggiamenti e accumuli d'umidità all'interno della pianta. Gli interventi fitosanitari vanno eseguiti una prima volta sul finire dell'inverno o comunque prima della ripresa vegetativa utilizzando prodotti rameici come l'ossicluro di rame, l'idrossido di rame, il solfato di rame o la poltiglia bordolese che hanno effetto preventivo sulla malattia. È possibile adoperare come sostanza attiva anche la dodina che ha effetto preventivo e curativo. Un secondo trattamento va effettuato in prefioritura. Potrebbe essere necessario un terzo trattamento in autunno quando le condizioni ambientali sono notevolmente favorevoli allo sviluppo del fungo in modo da evitare l'espandersi dell'infezione e arrivare alla primavera successiva con olivi il più possibile sani. Vi ricordo che il termine occhio di pavone deriva proprio dalla caratteristica piuma del pavone che ha le stesse identiche assomiglianze. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.